ciao a tutti oggi prepareremo la chiffon cake all'arancia il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa gli ingredienti sono farina di tipo 00 zucchero succo d'arancia olio di semi di girasole tuorli e albumi cremor tartaro sale un cucchiaino di pasta d'arancia semi di vaniglia e lievito per dolci vanigliato diamo il via la ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i tuorli e lo zucchero ed azionare il bibi per 8 minuti 37 gradi velocità 4 senza misurino aggiungere il succo d'arancia l'olio i semi di vaniglia il sale ed azionare il bibi per 30 secondi a velocità 2 aggiungere la farina il lievito la pasta d'arancia l'aroma d'arancia ed azionare il bibi per 50 secondi a velocità 4 trasferire il composto in una ciotola capiente lavare asciugare bene il boccale abbiamo lavato e asciugato bene il boccale posizionare la farfalla sulle lame mettere gli albumi il cremo ortartaro ed azionare il bibi per 4 minuti 37 gradi velocità 4 senza misurino gli albumi sono ben montati trasferirli nella ciotola con il composto amalgamare delicatamente con la spatola trasferire il composto in uno stampo da chiffon cake da 24 cm che non dovrà essere né imburrato né infarinato cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 60 minuti circa la torta è cotta capovolgerla e lasciare raffreddare completamente all'interno dello stampo trascorso il tempo rigirare la torta e rimuoverla dallo stampo passando lungo i bordi la lama di un coltello chiffon cake all'arancia grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti